Salve a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con Pillole News di Riviera Oggi Eventi. Ricordiamo gli eventi appunto a partire da domani, sabato 17 giugno, per una settimana. Ricordiamo intanto che si sta svolgendo già e si concluderà poi domenica, 18 giugno, il Festival del Pesce Azzurro a San Benedetto, Anghiò. Domani, sabato 17 giugno, sempre a San Benedetto, alle ore 21 al Parco Vuetila, Dottor Zago Ben Live, un tributo alla grande cantante Aretta Franklin. Sempre domani, sabato 17 giugno, ricordiamo a fermo l'apertura del Fermo sui Libri, un festival letterario che vedrà la partecipazione nel primo incontro di domani del filosofo e psicoanalista Massimo Recalcati, che farà un intervento dal titolo a pugni chiusi, psicoanalisi del mondo contemporaneo. Sabato sempre 17 e domenica 18, ricordiamo il mercatino dell'artigiano nel trencio storico di Ascoli Piceno. E sempre domani, sabato 17 e domenica 18 giugno, invece a fornare di acqua santa terme, Sibillarium, il Festival delle Fate, un festival di spettacoli, musica, laboratori, mostre, mercatini e molto cibo. Domenica 18 giugno, invece, a San Veneretto, sempre al Parco Voetila, After 8 Band Dance Experience, con musica anni 70, 80 e 90, da ascoltare e anche da ballare. Domenica 18 giugno, invece, ad Ascoli Piceno, al Tato dei Filarmonici, Geman, una cosetta così. Alle ore 21 andrà in scena uno spettacolo tra musica, teatro, comicità, con Giuseppe Cecce alle tastiere e Filippo Cattaneo alla chitarra. Passiamo a un evento importante da segnalare, quello che si apre lunedì 19 giugno e terminerà sabato 24 giugno a Macerata, la 24esima edizione di Music Cultura Festival, il Festival della canzone popolare ed autore, che si concluderà appunto con due serate finali allo Sferi Stereo e che vede anche la partecipazione in partenariato della RAI. Venerdì 23 giugno, invece, alle 20 e 30, ricordiamo lo Zenobi di Colonnella e il terzo appuntamento con il 500 Jazz Festival, con Flo alla voce e Lerico Zenisi al pianoforte. E concludiamo ricordando che venerdì 23 giugno, fino poi a domenica 25 giugno a San Benedetto, ci sarà nuovamente l'Antico Le Palme, il ormai consueto mercato dell'antiquariato. E per ora è tutto, alla prossima!